Ciao ragazzi, va tutto bene? Ah, ho capito, questo piccolo trampolino è per i piccoli, ma non sai dove sono, vero? Mi sembra che a te, Carlo, piaccia parecchio. Oh oh, Carlo, sembra che tu sia desiderato di nuovo alla base. Ciao Amber, buona fortuna alla gara Holy! Questa è la gara Holy! Oh oh, Carlo, i partecipanti alla gara Holy sono diretti proprio verso quelle pile di fieno che intasano la strada. Bisogna pensare a un modo per rimuoverle, veloce! Oh oh oh! Walter, non ce la farai mai a rimuoverli in tempo. Ma non preoccuparti comunque, perché sta arrivando Super Camion per aiutare! Super Camion, quale tipo di veicolo può rimuovere tutta questa paglia? Oh, è un'ottima idea! Super Camion, quale tipo di veicolo può rimuovere tutta questa paglia? Super Camion! Coraggio, ci sei! Oh, cielo! Piccoli, ma che cosa state facendo là dietro? Con il vostro giocare avete portato tutta la paglia sul percorso di gara! Il Super Camion ha ragione, sarà molto più sicuro per tutti se voi fate la vostra piccola gara Oli al parco giochi! I gareggianti sono quasi qui! Hai proprio ragione, pare abbiamo solo una manciata di minuti a nostra disposizione! Ma che cosa farai, Super Camion? Oh, wow! Super Reattori! E ora puoi muoverti super velocemente! Guarda Walter, guarda, guarda, guarda come va! Ehi, ma stanno arrivando! Coraggio, veloce! Ah, per fortuna tutte le pile sono rimosse! Wow, sono così veloci! Congratulazioni, piloti! Siete stati grandissimi! E anche tu lo sei stato, Super Camion! Ancora una volta, missione compiuta! Godetevi la vostra festa Oli, tutti quanti! Ci vediamo la prossima volta! Wow, Rocky, ma è fantastico! Stai mostrando a Baby Rocky come fare queste acrobazie! È meraviglioso! Il tuo papà è meraviglioso, Baby Rocky! E ora penso che dovresti provare queste cose da solo! Coraggio, Baby Rocky! Puoi farcela anche tu! Questo è il mio ragazzo! Oh no, fuoco! Baby Rocky, tutto ok? Stai bene? Le fiamme sono troppo alte! Non puoi farcela raggiungerlo, Rocky! Devo assolutamente fare qualcosa! Sono una persona in grado di aiutarci! Carl, fermati! Abbiamo un'emergenza! Baby Rocky ha avuto un incidente all'aeroporto! È in guai seri! Devi vederlo il prima possibile! Devi vederlo il prima possibile! Grazie a tutti! Dobbiamo fare qualcosa e molto velocemente! Quale trasformazione andrai a scegliere, Carla? Devi essere in grado di volare fino a Baby Rocky! Grazie a tutti! C'è solamente un veicolo che può raggiungere Baby Rocky e questo è un super aeroplano! Non riusciamo a vedere Baby Rocky! C'è troppo fumo! Che cosa farai, Super Cam? Questa è un'ottima idea! Vola attraverso il fumo per mandarlo via! Un ottimo lavoro, Super Cam! Tuo figlio starà benone, Rocky! Te lo prometto! Super Camion, e che mi dici del fuoco? Come faremo a distinguerlo? Con l'acqua? Ma certo! Concentrati sul fuoco, Super Camion! Sì! Il fuoco se n'è andato! Ben fatto, Super Camion! Hai salvato Baby Rocky e probabilmente l'intero aeroporto dal fuoco! Potresti usare una doccia, Baby Rocky, perché quel fumo nero ha lasciato diverse chiazze su di te! Cosa? Hai un'idea, Super Camion? E' veramente un'idea brillante! Goditi la tua doccia, Baby Rocky! Un'altra giornata salvata dal Super Camion! Ciao ragazzi! Wow, Carla! Non sapevo proprio tu riuscissi a farlo! È fantastico! Sembra che qualcuno sia nei guai! È meglio tu dia un'occhiata, Carla! Oh no! Jerry si sta allenando per una grande gara, ma tutto quanto il circuito è pieno di spazzatura! Deve essere stata portata lì dal grande vento di ieri! Carla! Penso proprio che questa sia una missione per Super Camion! Ciao Jerry! Hai un aspetto preoccupato! Ti turba il fatto di non riuscire ad allenarti per la gara? Lo immaginavo, ma non preoccuparti! Non preoccuparti! Super Camion è qui per aiutarti! Ma quell'espressione! Carl, hai per caso un'idea? Ah! il super camion della spazzatura è magnifico che c'è super camion ti è venuta un'idea ah benissimo una super gara di pulizia 3 2 1 partenza sì siete entrambi vincitori ah vuoi chiedere ai tuoi amici di pulire il tuo garage e di trovare i tuoi trofei super camion puoi fare qualcosa è magnifico wow jerry avevi ragione questo posto è un disastro i tuoi trofei sono da qualche parte in mezzo a queste scatole ma come faremo a trovarli con tutte queste pile di scatole ci metteremo degli anni un braccio magnetico ma è ovvio tutti quei trofei sono fatti di metallo così un braccio magnetico li farà saltare fuori dalle scatole e li raccoglieremo in men che non si dica guarda jerry abbiamo trovato i tuoi trofei ben fatto ragazzi siete riusciti in una grande impresa finalmente il giorno della gara jerry ha un aspetto molto eccitato super camion e gary sono qui per incoraggiarlo e supportarlo siii e gary vince wow super camion questo è fantastico grazie super camion grazie super camion ancora una volta sei riuscito a compiere una grande missione ehi ragazzi state facendo merenda oh la forma delle nuvole vi somiglia che cosa bellissima wow quel razzo sa veramente quello che fa guardate è qui anche il piccolo rocky fai attenzione ben tornate indietro piccoli oh oh non resisterà a lungo è meglio che chiami il super camion proprio ora carl carl bene in pericolo sta quasi per cadere ti prego fai presto super camion super camion ah eccoti qua oh ben purtroppo continua a scivolare super camion devi pensare molto in fretta brava scim brava scim un super camion un super camion trasportatore oh state indietro ragazzi non preoccuparti ben fai presto super camion ben renato oh no è la massima altezza che puoi raggiungere oh no è la massima altezza che puoi raggiungere oh no è la massima altezza che puoi raggiungere oh no è la massima altezza che puoi raggiungere oh no è la massima altezza che puoi raggiungere ma come avete fatto arrivare fin lassù oh carino da parte di penny ma ora è dovuta tornare al lavoro la piattaforma del super camion è troppo piccola che cosa pensi super camion oh un enorme materasso bene piccoli ora dovete saltare sì ascoltate ben piccolini oltretutto sarà anche divertente oh vuoi andare per primo ma sei molto coraggioso pronto 3 2 1 oh oh sembra veramente divertente non è vero e ora chi è il prossimo oh questa proprio non me l'aspettavo bene bel lavoro super camion oh i piccoli sembrano iniziare a divertirsi parecchio carl ce l'hai fatta anche questa volta ciao ciao ci vediamo alla prossima vai là amici che succede? ti stai preparando per saltare carl indossando una benda ma è una cosa epica si marley ce l'hai fatta carl è meglio che tu faccia ritorno alla base ma è tutto l'aspetto di una festa oh no sta bloccando tutto carl è meglio che tu vada a sistemare tutto guanaglio guanaglio a è tutto ok ok Walter sappiamo che è stato un incidente non abbiate paura piccoli è solo una pignata Super Camion sa cosa fare e ora la rimuoverà giusto? ok ok ha 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 ok 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 ben fatto Super Camion oh no Super Camion e adesso che farai? hai ragione penso che ti serva qualcosa di più preciso che una falla da demolizione ma che cosa stai pensando ora? ma certo! l'ST3000 con il suo laser wow è stato veramente facile mmmm sembrano deliziosi la situazione è stata impegnativa Super Camion oh 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 hoo mmm oh 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 wow ragazzi ma che cos'è tutta questa fretta state gareggiando per vedere chi troverà il primo uovo di pasqua vedete qualcosa e tu che mi dici carla ebbene buona fortuna carla aspetta fermati un secondo e mi dispiace interromperti ma c'è un'emergenza oh no i piccoli non riescono a trovare nemmeno un uovo walter li ha nascosti fin troppo bene puoi dare loro una mano a cercarli tu sei particolarmente bravo a giocare a nascondini questo dovrebbe essere un caso molto facile per te e non c'è un'esplosio che Non preoccupatevi, piccoli! Il super camion è qui! Lui e Walter troveranno le uova in men che non si dica! Coraggio! Andiamo a cercarle! Vedi qualche uovo, Walter? E tu che mi dici, super camion? Niente! Oh, aspettate! Guardate! Un po' di dolci! Oh, siete stanchi, piccoli! Oh, ciò è molto carino da parte tua, super camion! Ma penso siano molto stanchi e potrebbero avere bisogno di un passaggio! Manamaya! Un po' di dolci! E questo è il cappone. Oh, wow! Sei una super auto da trasporto! Questo è perfetto per dare un passaggio ai piccoli! Tutti a bordo! Piccoli, buona fortuna con la vostra ricerca! Avete già trovato qualcosa? Guardate tutti! Super Camion ha trovato qualche uovo! E voi vi siete ricordati di dove sono tutti gli altri? Da Carrie! Bene allora, andiamo! Oh cielo, che c'è che non va con i piccoli? Ah, penso tu abbia ragione! Guarda, le uova si stanno sciogliendo a causa del sole! Super Camion, allora che facciamo? Usiamo l'ST3000! È una grandiosa idea! State indietro e ognuno di voi chiude i suoi occhi! Il raggio refrigerante è abbagliante! Wow! È un bellissimo lavoro Super Camion! Questo le terra fresche mentre arriviamo da Carrie! Adesso potete aprire i vostri occhi, ragazzi! E ora andiamo a prendere il resto delle uova! Urrà! Le uova di Pasqua finalmente sono arrivate! Carla, senza di te non saremo mai riusciti a trovarle! Oh wow! Un'altra sorpresa pasquale! Grazie per le gelatine, Carrie! Buona Pasqua a tutti quanti voi! Ci vediamo la prossima volta! Buona Pasqua! Buona Pasqua!